Ragazzi buongiorno nuovamente con Luigi Maldera Ciao, buongiorno E oggi facciamo un circuito, tre minuti come detto nel titolo per allenare le gambe in stile capoeira Luigi è un esperto di capoeira, personal trainer di Milano lascio comunque sempre i suoi contatti qua sotto nella descrizione del video e oggi andiamo a fare questo allenamento lo prova lui, quindi dovete farlo con lui lui vi fa vedere gli esercizi glieli faccio fare 60 secondi, 60 secondi, 60 secondi perché saranno tre esercizi da eseguire a circuito e ce li dimostrerà subito lui Luigi mettiti all'ora iniziamo, iniziamo oggi ok ragazzi iniziamo circuito, tre minuti con 10 secondi di recupero tra ogni esercizio quindi sono tre esercizi, tre esercizi di schiva nella capoeira vi vedete, non sto a raccontare come funziona l'ecchietta ve li faccio vedere che tanto oggi ci alleniamo sono tre minuti, vi assicuro che sono intensivi quindi dateci dentro ok, iniziamo 3, 2, 1 ecco qua, vediamo iniziamo 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 secondo me qua è tosta, tosta questa veramente vi faccio il commentatore di questa prova mi mancava molti 5 secondi al primo esercizio vedete, questo primo esercizio di schiva sono simbolo un po' degli affondi dinamici quindi molto, molto impegnativi sia per i butti, per i flessori, per i quadricipiti poi pieghi, poi pieghi, poi pieghi la schiena poi avete visto anche mobilità per questo movimento sempre vediamo che controlla bene il movimento ok ok, primo esercizio è abbinato ok 10 secondi fa ok, vediamo ok, iniziamo se forno esercizio è bello tosto ok, ma mamma mia, io questo esercizio è benissimo non si vuole uno squat, gira quindi come notate c'è anche tanto lavoro anche di mobilità coordinativo quindi sono gli esercizi complessi che mettono in tavola non solo i busbri ma anche la coordinazione e ovviamente anche l'apparanto tardi circolatorio poi dovremmo un vigilante di questi tre minuti se vanno in un mattino a panno, guarda ok tac i mani abbiamo ancora 25 secondi qualche suggerimento su questo esercizio che puoi dare al volo mentre lo eseghi? respirate ok non ho dato una idea ottimo tanta coordinazione tanta coordinazione si inizia bene prima di provare questo allenamento potreste provarle provare questi esercizi e poi partite tutta questa routine eccolo qua bravissimo ok per assicuro che sentirete bruciare tantissimo ok adesso abbiamo l'ultimo esercizio come vedo tutti gli esercizi che provengono dalla capoeira che vengono utilizzati come esercizi di diciamo addestramento proprio per altri movimenti e ovviamente anche rinforzo muscolato per esempio di dire qua che carica l'altra con questa programmazione non penso di no ok questo è difficile ecco come vedete c'è una crociata completa quindi quasi uno sport completo si va a toccare la terra con la mano si cambia con l'altro braccio anche in questo caso una coordinazione importante e da questo movimento io che sono nel ferro del movimento capisco che comunque tanto lavoro con i gluti tanto lavoro anche con i quadricipiti e ovviamente il lavoro cardiociculatorio non sta poco perchè le masse muscolare poi molte sono ampie e quindi c'è tanto confagio anche da parte del cuore eccoci qua vediamo vediamo Luigi che sta portando in termine questi terreni ultimi dai vanta poso ecco bravo 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 guarda ho le gambe senti fiamme le gambe in fiamme in fiamme ragazzi provatelo e fateci sapere com'è andata scusate il fiatone ecco arrivo anch'io nel video mettiti qua a fianco scusate è tosto eh con il fiatone in termini di questo circuitino volendo potete recuperare due minuti tre minuti e se siete forti potete ripeterlo anche per altre due volte tre volte in base un po' anche al vostro livello atletico lui c'è il fiatone passate a trovarlo lui lavora come personal trainer a Milano esperto di capoeira ma non solo anche di preparazione fisica di qualsiasi tipo lascia i contatti qua sotto e niente bravo pollicelli in su per Luigi oggi ciao ciao ciao